Ocunde, 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 in questo tempo ci dobbiamo leggere il conto, oppure ci potremo pure sentire. Il culo patrimonio dell'umanità Questa storia non è successa tanto tempo fa, non è successa quando c'è steve una volta, succederà rimane, perché secondo che succederà, hanno tempo che non è venuta ancora, ma venerà. Un culo solo, un culo senza coscia e senza rena, mazziata, cacciata, a cavi e sfuggata, fu ieri per campagna, fu ieri disperati, fino a quando si fermarà sotto un albero e là si incontrerà con una zizza, una zizza sola, vecchia, arrappata, pur essa cacciata, perché ormai brutta e sfruttata non serve più a niente. Se lamenterà, puoi andare in coppa a un ramo nell'albero. Se lamenterà, la zizza, chiamerà. Ocule no, ocule sarà più forte. Appaurito sì, ma non volerà morire lontanere con un bagno e soia, che ha sui cosci, che ha sui mani, che ha sui spalle. Dicerà la zizza che pure quando era stato giovane e tu, non, essa aveva sofferto. Essa, la zizza, era stata creata per crescere creature, per cacciare latte. Essa no, essa non era stata creata per cacciare latte. E per questa era stata trattata come uno schifoso. Dicerà, questa storia da fornire, questo destino non può continuare così. e se ne partarrà sotto a quell'albero e verrà cercando i culi abbandonati con maes, i culi solani e sconsolati. E come infatti troverà mazza vecchia, mazza consumata, mazza esagerata, mazza appilata, mazza che bucuno, mazza russucata e mazzeranno. Faceranno una grande adunate mazza e nessuno di loro sarà d'accordo a fare sta fine. Cacciati e allontanati perché prima l'Europa arriva il momento che non piaceranno più. Ognuno di loro dicerà che volerà morire là, addosannati, assieme a loro che fanno parte della persona umana. Cagnassero si vanno il cuore, il fegato, il pulmone, ma noi no, ci hanno sempre considerati secondari e vogliamo morire là, addosannati. Si spannerà la voce e si uniranno alla protesta anche i culi che ancora staranno posto loro, quelli che stanno ancora in coppia e coscia e fanno ancora la loro funzione, pur sapendo che prima l'Europa saranno cacciati. Uno è loro diventare il capo in testa e proprio lui, il culo capo in testa della protesta, mi annarrà a dicere Immaginate un rumore unito e tutti quanti noi. Immaginate un colpo appena usato l'oletto quando si sprete a tutta forza. Immaginate un rumore unito e tutti quanti noi a prima mattina per dentro i cabinet. Immaginate che si sente con tutti i bot contemporaneamente unite. Se ci mettiamo assieme collegati senza spregare gas esplosivi e senza sbagliare con scoppi spasati e fuori tempo. Se uniamo tutte le forze allo stesso momento, a prima mattina. Se facciamo questa grande unione per preparare il più grande perdone mai sentuto. E' stato calcolato che questo boato, questa eruzione e movimento d'aria, potesse avere la potenza di un disastroso terramoto. Potesse spustare all'onno e rumare fino a muovere un grande maramoto. I morti sarebbero a migliare. Sì signore, la battaglia si può fare. Sarà affotosa, ma la vinceremo. E così, quando la minaccia sarà divindata potente e pericolosa, allora il culo capo in testa sarà chiamato da uno dei cervelli più importanti romun. Oggi il bello è così. Sabe che il Gaddafa è stato fatto apposta. Ci saranno discussioni, rinfacci, chi sei tu e chi sono chi gli hanno promesso. E alla fine la sentenza. Nessun abbandono, spostamento o sostituzione. Niente di tutto questo dovrà accadere. Da quel momento in poi gli organi vitali saranno sostituiti, sì. Perché senza di loro non si sopravviverà. Ma il culo non si potrà cambiare. Potrà essere accungiato, curato, abbellito e anche modificato. Ma da rimanio vostro suoi fino alla fine. Fa parte della dote che ognuno tiene e sa da tenere. Da quel momento il culo sarà considerato patrimonio dell'umanità. Il culo è patrimonio dell'umanità. L'UNESCO. Ma parlavo dell'UNESCO. L'UNESCO. L'UNESCO. L'UNESCO.